bianca ok la pinza con le pillole le docce questo è quello per bocca diciamo poi la medicazione la teniamo per dopo bianchina come sta aspetta bea qua io devo e se ci scappa fuori l'altra volta sotto le capelli vero signorina bella usciamo da qua piccoletta brava bravissima bianca che brava bianca forse è più buona oggi vero bianca bella dai ci sbrichiamo subito subito dai hai capito che ti stiamo aiutando no bianca no cacciami il vestitino piano piano brava bianchina dai vestitino vestitina bianchina glielo togliamo dai puoi metterti almeno un guanto sai che cosa ci serve il vestito suo nuovo nella cabina armadio appena entri sul mobiletto sulla destra quello dove teniamo le buste bella bianca vediamo la feritina come va vediamo eccola qua la nostra gattina simpatica ancora perde bus ancora c'è bus e qua ma e quando guarisci figlia quando quando ancora qua dobbiamo continuare a medicazioni da questo punto qua continua a spurcare bus incredibile 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 ancora ancora bus facciamo prima non finisce mai stagatta ti rendi conto le goccine dai le goccine da bianca quando cavolo guarisci bianca ancora bus mi sa che ne dovremmo prendere pure di più di una di queste qua asciutte le vitaminelle che buone si dove le abbiamo prese la quello scatolino rettangolare dai ingoia bianca fai la brava bianca dai che ci abbiamo la pillolina bianca tutti sti antibiotici non guarisci figlia che ti si deve fare di più la medicazione ogni giorno tutto e ancora e ancora niente bianca ancora bus mannaggia la miseria sono le punturina così poi passiamo alla medicazione bianca buona ok bravissima butto a terra poi le chiudo mi bianca sei veramente un facidome ok dammi l'asciutta mamma ancora bus non ci si può credere con sta carta non ci si può credere ancora bus ma dove da qua non sai quanto ne è uscito appena aperto ora non nasce più però era proprio bus era proprio bus non è che dici era un'altra roba no era proprio la sotto questo punto qua ancora non mi guarisce ma non va bene che ancora spurca bus questa ok dammi betadine per il confronto settimana scorsa è oro certo era ancora non si possono togliere i punti ancora per come la situazione non posso togliere i punti ora sono due settimane bella lo so che tu ti sei rotta ma non è che noi ci piace ma perché qua ricetto che cavolo acqua ora non esce più gliel'ho tirato fuori tu è proprio colore di di pussera grigio schifoso non so immaginare bianchi quanto ce li avrai alti tu con st'infezione lasciamolo per lo bagnato di petadine bravissimo carichiamo gli e la pomata vestiti no sei riuscita a segnalo guarda quante cose che servono solo per lei mettiamo sopra la carta col mignolo che quello che non ho toccato niente ma come sei conciata bianca proprio sai preferisco appoggiare più qua sotto ok ora è difficile apro no non iniziare bianca non iniziare bianca fai la bravina ma quando guarisci quando bianca bianca quando guarisci non ce la facciamo più né tu né io o egli ha cambiato pure l'antibiotico ora gli ha messo i bitril prima faceva rocefine sinulox e stomorgil ora baitril sinulox e stomorgil ugualmente questa spurga alla copertura quadrupla e ugualmente cioè non doveva esserci manco un briciolo di infezione bianca ma perché bianca ma mangia sei quanto mangia almeno questo che sta bene mangia meno male dai sì però sei un cane sempre tu eh dai bianca è andato bene abbiamo finito ora ti mettiamo la copertina pulita il vestitino pulito te l'abbiamo messo la sua casettina che si sciacca qua dentro ecco qua nella casetta posto è andata bene dai dai biancchino andata bene perfetto bravissima la lettierina il lettino e la pappa ecco qua